RECIP offre servizi completi per persone edifici e città. Seguendo i propri valori di impegno e trasparenza, responsabilità e solidarietà, correttezza e legalità, RECIP si impegna ogni giorno per realizzare i punti della missione e promuovere uno sviluppo sostenibile. Lo sguardo è rivolto ai 17 SDGs dell'agenda ONU 2030 per fornire un contributo concreto alla realizzazione degli obiettivi. RECIP ha individuato 15 temi material raggruppati in 4 aree. Solidità e vocazione worldwide, sviluppo human centric, integrazione e tecnologia, energia e risorse sostenibili. La solidità e continuità aziendale si perseguono con una struttura del capitale adeguata e sostenibile capace di attrarre investimenti e attraverso lo sviluppo internazionale che nel 2019 ha registrato importanti passi avanti sia in Francia che in Polonia. Fondamentale anche un sistema di regole e controlli che garantisca l'etica del business. È una comunicazione chiara ed efficace. Lo sviluppo human centric si realizza grazie a oltre 80.000 ore di formazione con l'avvio della seconda edizione del percorso Talent e il potenziamento dei corsi di formazione linguistica. Un sistema di welfare che propone iniziative come Un Futuro di Valore che in dieci anni ha erogato 2.680 borse di studio ai figli dei dipendenti per un importo di 1.414.000 euro e campi residenziali estivi e centri estivi gratuiti. Il mantenimento del sistema di gestione di salute e sicurezza con la transizione verso la norma 45001 e la sostituzione dei prodotti a rischio chimico non irrilevante. La realizzazione e soddisfazione dei propri lavoratori, considerati i primi ambasciatori dell'azienda e collaborazioni crescenti con istituti, enti di formazione e università, nonché la presenza e visibilità ad eventi specifici in ambito HR. L'avvio di progetti innovativi come lo smart working e l'adesione al protocollo per il lavoro agile promosso da Comune e Città Metropolitana di Bologna. Integrazione e tecnologia per offrire soluzioni di elevata qualità ai clienti ed aumentare il valore prodotto e condiviso. Proporre nuovi servizi nuovi mercati come la logistica sanitaria e il facility management urbano. Innovare i servizi core con il progetto MAPIT e manutenzione predittiva integrata Touch & Tech in ambito i servizi integrati e il piano di gestione ambientale in ambito cleaning. Investire sui modelli organizzativi e sulle attività di change management. Soluzioni sempre più sostenibili in ambito energia che prevedono misure passive per ridurre il fabbisogno, misure attive con installazione e gestione di sistemi altamente tecnologici e attività di gestione energetica. Nel 2019 Recip ha conseguito 11.927 titoli di efficienza energetica. Una selezione di fornitori che punta su quelli locali e insiste sui fornitori strategici per attivare vere e proprie partnership. Riduzione dei rifiuti intermediati e prodotti, l'85% dei quali inviati a recupero, è una politica aziendale volta ad adottare soluzioni per la diminuzione e eliminazione dei rifiuti da imballo. Per conoscere meglio Recip sfoglia il bilancio di sostenibilità 2019 su www.recip.com Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.